Vorrei fare dei progetti, anche perché il progetto aiuta a vivere, cioè aiuta specialmente la mia età, però la realtà è questa, perché io avrei pensato dopo vado in pensione, faccio dei corsi, mi dedico a delle cose che mi piacciono, ma questo purtroppo, sì, ecco, forse sì, vado a un teatro, mi portano lì, tac, lì, sto, però di fare delle cose mie, camminare, andare e dire faccio un corso di restauro, di doratura, ecco già mi implica, perché oggi ci potrò andare, domani forse no. Ho sempre un po' bisogno di tutti quando mi devo muovere e questo mi deprive un po' il fatto di non essere solo abbastanza autonoma, però dover sempre aver bisogno se mi devo muovere gli accompagnamenti, perché io da solo non ce la faccio, non prendo in tram, non esco. Beh sì, tutti viaggi, io non viaggio, perché non so che cosa mi aspetta, se vado al mare ho sempre paura delle risalite, perché poi, come ho detto, questi problemi si aggravano in presenza di caldo, quindi l'estate in generale è la stagione peggiore, perché anche camminare con il caldo è faticoso. Le limitazioni sono queste, i viaggi, le visite culturali, non so mai quante scale ci saranno. Una volta in un museo mi capitò di dover salire delle rampe di scale, di chiedere se c'era possibile utilizzare un ascensore, di sentirmi rispondere che l'ascensore c'era, ma era solo per i disabili, perché questa è una patologia che non appare in un museo mi capitò di dover salire.